Si preparano a tornare alle urne gli elettori di Montevarchi e Sansepolcro. Il primo turno dello scorso 5 giugno non ha consentito l'elezione dei rispettivi primi cittadini. A Sansepolcro saranno chiamati alle urne quasi 13.000 elettori contro gli oltre 18.000 di Montevarchi. La corsa per la carica di primo cittadino nella città di Piero della Francesca sarà tra il sindaco uscente Daniela Frullani e lo sfidante Mauro Cornioli. A Montevarchi invece la sfida sarà tra la coalizione di centro-sinistra con Paolo Antonio Ricci come candidato e la coalizione di centro-destra che appoggia Silvia Chiassai. Si può votare dalle 7 alle 23 di domenica. L'elettore esprime il proprio voto tracciando con una X sul nome del candidato su una delle liste a lui collegato. Sarà eletto sindaco il cittadino e la coalizione che otterranno il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità sarà dichiarato eletto il più anziano.